Per me va più che bene, quindi match La telecamera, cioè la fotocamera è buona Sì Ma il primo cosa è strano? Stavo con il 12 Vai Che ne sai che sei contro il 12 Vai eh Ah, è rosso, ok Sì Dai amico 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 Spero sempre che non mi si affidino i miei rogetti e i due albero Ma alla fine succede sempre Sì Poi 10 no? Ehm 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 questo trappolo 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 vabbè ti metti con la mano tua e ti senti il trappolo dovremmo mettere il micro al governo si va e tu ok aspetta e vai meglio ok ti riparo stracciate si bello tipo The Office ti devo inquadrare tipo The Office quando si fa l'inquadrare apposta non l'ho finito non l'ho finito molto bello è morto è morto? si prende questa qua funziona di spazio da terra manca solo rai non l'ha finito e è morto è morto no ma lo vedi comunque allucinante no è che volevo rubeglio che una volta mi savi rubeglio anima 10.000 game così funziona ma non puoi partire l'interno del matrimonio il matrimonio ha briccato contro il giacone ma se no il matrimonio non parte di seto trepasso parte seto 5? no pesco uno si perfetto si è ingazzato a me eh la vita Ehi, ti fanno il culo, vieni! Sì, ti fanno il culo, vieni! Dai, che culo! Sì, che culo! Che cosa le trovo io? Sarà perchè non so a destra! Sì, che culo! Sì, che culo! Sì, che culo! Sì! Sì, che culo! 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 No, non puoi! Sì, che culo! 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 Prima volta si sforza! Prima volta e poi si sforza! assurda da bannare ok, e un po' di rosso effetto, un po' crutto effetto, dai si no, ne da poi non la mia ok non la mia 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 ecco il bello lui questo è il bello questo è il bello questo è il bello non la mia non lo so non la mia non c'è niente no, non c'è niente no, non c'è niente qui qua c'è quello per la sietta counter counter e l'alpha quando è la scimmia? è questione lì non è la scimmia non è la scimmia non è la scimmia no, è roba buffa quello vorrei andare questo qua è questo qua mettiamo la scimmia anche non è ricordo vai io sono la riservata con lui che ha fatto le montazioni per esempio ah no, questo non è questo questo è la prima volta però ci stanno quelle stronze che costano più di calore io ho sciolto quelle ciccione queste chiamano quelle che vengono battle si quelle ciccione quello che vengono quella è una tizia la ripiena la ripiena penso se prendono ma io gli avevo detto di mandarmi ma risolve sul mio terreno quello cosa? che vuol dire? se me lo prendo ti spacco le tue le tue le fie le le levo è la tua quindi la bagla no? coperto No, di che sei l'epoca? Una spacca di Shark Cannon? Non te la sei presa un Shark Cannon, non posso Non ti ho cambiato niente Min 2 Tu hai pescato in modo spolverino, ma che vuoi? Ma che ti fa parlare? Ok, allora 2 Allora, tutto piccolo, riservo Ok, ci mando le foto Ci mando le foto che faccio per modificare E non le va di mettermi nel cuore Ok, vai Allora, tutto piccolo Riserva, punto Intramonti Chiocciolo, libro Aspetta Chiocciolo, libro Si, libro Riserva, punto Intramonti, libero, punto Intramonti Quindi, riserva, punto Intramonti, chiocciolo, libro Quanto ho preso io? Bene Quanto ho preso io? Bene Vieni Vieni E' ventissimo Vieni Quanto ho preso io? E' ventissimo E' ventissimo Se è stato messo nella tropparia per effetto mio, se è stato messo nella tropparia o se è stato messo nella tropparia? No, la chero, ci no. Se uno dei tuoi unito in blu sarebbe messo nella tropparia o una dei tuoi unito in blu? O una dei tuoi unito in blu? Posso andare? Sì Stem by me 5, 4, 3 Vai And the face Questo ci ha migliorato Sì E' una domanda E' una domanda